Dopo l'esecuzione nel fine settimana di un iraniano svedese accusato di terrorismo, le autorità di Tehran hanno condannato a morte altri due prigionieri, questa volta per blasfemia. Youssef Mared e Sadullah Faseliza Re sono stati impiccati in una prigione del centro dell'Iran. Erano accusati di aver insultato il profeta Maometto e di aver promosso l'ateismo. Le ultime esecuzioni si inseriscono nel solco di un trend di aumento nella Repubblica Islamica, i condannati sono soprattutto oppositori del regime religioso o appartenenti a minoranze etniche. Un rapporto pubblicato da alcune organizzazioni non governative occidentali ha rivelato una drammatica impennata nell'applicazione della pena di morte negli ultimi tempi. 582 persone sono state condannate sulla base di diversi capi d'accusa soltanto nel 2022. L'Iran è così al secondo posto nella classifica mondiale dei paesi che ricorrono di più alla pena di morte. L'aumento coincide con mesi di proteste contro il regime e una successiva sanguinosa repressione che ha provocato centinaia di morti e numerosissimi arresti.